Alla grande. Allora, la storia. E c'ho gli enigmi. Le 5. Le sfide dinarie. Le sfide dinarie. Il 3. Il 4. Il 3. E del 5. Il 32. Il 31. Il 32. Il 32. Il 32. Il 33. Il 33. Il 33. Il 33. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo le sfide. Ok. Ok. Allora. Corriera che c'è l'orco frange e pietre. Togli il tuo orco. Minchia. E' da un po' che non abbraccio la mia rabbia. E' da un po' che è un po' che è un po' che è un po' che è un po'. Hai un solo colpo. Non sbagliare. Non sbagliare. Perché ci mancava lui Cazzo Ehm niente Ok ok ci mancava lui Ecco perché Me ne serviva un orco in più Vabbè poco male Allora è una cagata È una cagata pazzesca ho capito Strano eh E sulle cagate io ci perdo sempre E' da un po' che non abbraccio la mia rabbia Io ne fa la forza Hai un solo colpo Non sbagliare Assaggia il mio potere Vi farò a pezzi Vi farò a pezzi Cazzata Tutto mi è sempre col colpo Che non è grande e grosso come te C'è la caveragra che già metto a gioca Cominciò il tuo o no? Allora, ah non c'è, non c'è un cazzo. Nello del mentore, catapulto d'assedio, solo se il tuo lato è la donna del piede, poi guerriero del nord, signore della morte in catene, sei quando l'avversario quindi fai il primo l'avversario, sono autorizzato a poter fumare la tua vita, da doppio attacco e saluto e ha utilizzato il minuto, signore della morte, tempo di combattere. Allora, minotaurosca. Allora, minotaurosca. Allora, minotaurosca. Mi serve carica. Radobbiamo. Sto solo facendo azari. Mala grande. Abbastanza semplice. Capita tutte le trucche da canalizzare con la rabbia. L'ambaria di roba. Ma inizia anche il tuo. Il predattore notturno. un redattore notturo 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 Allora, oh, ci abbiamo avvolto tutto un 8-8, attacco a 0 fino all'inizio del tuo turno, bene. Bene, bene, bene. E questo è una verità nella tua mano. Imparerò questo incartesimo. Imposta l'attacco di una creatura a 1. Ok, guida di un negati, controllo evo con un'altra creatura per fornire P2P2 alla guida di un negati. La carta costruita, infilizion dana, avversario, vado a nemmeno a mezzanulca. Semplici Allora Ci trovo di bello Il 20 I primi 5 Ho finito Difficulta Esperto Bene Difficulta Inculata Doppia Ho già capito I primi 5 I primi 5 I primi 15 Allora, vinci il tuo, questo graffo, sfondamente evocazioni ottiene carica se controlli un altro urgo, sfondamente controlli un altro urgo, scelgo una zona e distrugge tutte le creature tranne quelle con attacco più alto in entrambi i lati della zona. Madonna, altro che 0000, porca troia. No, ho capito, devo levare i guardie, cazzarola, 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 questo è carino. Infatti, no, niente, devo levare i guardie. Devo levare i guardie. Sì, se no, poi non c'è lo sfondamento, mi attacco. Ok. Devo levare i guardie. Devo trovare l'altro urgo, ok. Ho capito, non ti muovi lì. 5, 5, 5. 5, 5, 10, e 3, 13. Perfetto. Ok. Allora, cosa mi trovo davanti? Oh, le galline arrabbiate. Interessante. Conci il turno. L'evocazione fornisce il procedimento alla creatura che ho pagiato in questo turno. Impetito vorace. La montagna di salute che ottieni. La doppia la montagna di salute che ottieni. E l'anello di una mira. Oh, che bello questo. La salute infriggete tanti danni all'avversario. Interessante. Quando guadagno di salute infriggete tanti danni dall'ossaria. E l'anello di salute infriggete tanti danni dall'ossaria. Allora. Allora. E che ottieni? Innovaci ispira. Innovaci ispira. Allora. Allora, però scioglamento. Così semplice. Bevi una morte, una morte, una morte, una morte, una morte a orchi. volice. Reg Blue 5. Ma attacco. Forse. per ogni creatura nemica porca merda piccoli per ogni creatura nemica tre danni l'ha fatti porca troide ecco perchè il mazzo prosciugamento fa veramente a mano ok anche questa è a posto vediamo un po questo la percezione del critico è fondamentale per questo lavoro allora inizi per il punto sopravvivi per un turno per vincere ma sopravvivi per un turno per vincere ok bene una un'altra una una Sopravvivi un tono più piccio, la testa dell'ecodropica o una tua creatura, guardia, scommettitrice, nave di prigione, mazza del fardello, più capito che guarda se hai un'azione, un oggetto, una carta supporta nel tuo cimitore o un gioco. C'è l'accampamento e tempesta di fuma. Allora, vediamo un po' che ce ne ha. Ma cazzo faccio a tenere 488? Un olivo. 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 guarda se hai un'altra zona presentati presentati che stender abbia pietà di te sopra lui è brutto un'altra bella cartina un'altra bella 2 a 1 73 a 1 bene vince il turno con 73 a 1 mi piace mi piace signor giurante poi ai re le azioni costano 1 in meno, che bene trasforma il suo germano in una copia di una tua creatura attiva la verità, evocazione delle tue creature praticamente evocazione, facciamo un cazzo anziana ombro verde più 2, più 2, agli altri tuoi springer e animali questo mi sembra che la vesti granchia vediamo un po', almeno se funziona sul granchia allora e funziona e funziona e funziona quindi un'azione che ha giurato il tuo civico e la tua azione può stare a prendere che gli antenati ci benedicano e funziona una volta che si non si è avuto e funziona un'azione che si è avuta e funziona alla prossima e funziona e funziona e funziona e funziona e funziona Grazie a tutti. 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 Allora... è uno spettacolo... un spettacolo... Ok... e anche questo... e anche questo... è uno spettacolo... è uno spettacolo... 2... 2... 2... 2... è uno spettacolo... è uno spettacolo... è uno spettacolo... spettacolo... è uno spettacolo... è uno spettacolo... è uno spettacolo... è uno spettacolo... c'ho avuto una forza secca ho esperimentati no ce l'avevo già che male assaltami la carta e ne ho preso un cazzo ok 15 comuni 4 ore e ore e per oggi ho finito almeno questo